Ciao, sono Laura Lodi e sono una dietista nutrizionista della provincia di Modena. Ho deciso di iniziare a fare dei video sulla spesa sana, equilibrata e sostenibile, andando per diversi negozi a seconda del video e cercando di proporvi un pasto bilanciato per video. Ad esempio le prime carrellate di video saranno sulla colazione e il primo post che ho scelto appunto di utilizzare è Lidl. Quindi se per caso vi interessano degli altri prodotti che ancora non ho citato nel video oppure dei supermercati che ancora non avete visto, fatemelo sapere nei commenti così che io possa organizzarmi e fare i video che vi interessano di più. Cercherò poi di associare ad ogni video anche un articolo sul mio blog del sito www.spesaconladietista.it. Li troverete e li troverete sempre nelle descrizioni linkati delle cose in più dette su quella spesa, ad esempio qualche prodotto in più che non ho potuto citare nel video o qualche informazione sul prodotto che non ho potuto dire nel video. Inoltre vi ricordo di guardare sempre nelle descrizioni del video che ho fatto oppure nel link del blog che appunto è collegato perché potrebbero esserci degli aggiornamenti riguardanti appunto quello che ho registrato. Ovviamente le registrazioni non possono essere poi modificate quindi è importantissimo vedere se le informazioni che avete trovato sono aggiornate. Quindi io se cambierò qualcosa proprio nella descrizione scriverò aggiornamento delle e vi aggiungerò qualche informazione. Questo perché potrebbero cambiare i prodotti legati appunto all'industria che decide di cambiare qualche ingrediente, qualche tipo di produzione oppure potrebbero esserci dei prodotti in più che potrei proporre della stessa categoria, dello stesso negozio e quindi magari per darvi qualche informazione ve lo vado ad aggiungere in descrizione. Quindi mi raccomando andate sempre a leggere. Aggiungo poi che mi farebbe piacere capire se il video che ho fatto vi è piaciuto, se l'avete trovato interessante quindi vi chiedo di farmelo sapere nei commenti o anche semplicemente con un like. In questo modo più like vedo, più condivisioni vedo, più capisco che quel tema e quell'argomento vi è piaciuto e quindi posso fare altri video su quel tema e su quell'argomento. Se avete delle domande poi scrivetele sempre nei commenti che cerco di rispondere il prima possibile. Intanto vi auguro una buona salute e una buona visione dei miei video.